TIA 99 presenta le avventure di Asterix e Obelix, Episodio 8, il calcio, buona, buona visione, che bella giornata, oggi ho voglia di giocare, di giocare a calcio, mai che ci vado a casa dei fratelli di Mario. Ciao a tutti, ciao Asterix, come va? Io bene, tu? Bene, oggi giochiamo a calcio, Mario? Va bene, perché no, chiamo anche mio fratello Luigi se gli va, ora lo chiamo, eh? Luigi, Mario, dimmi, vieni con i giocare a calcio con me e Asterix? Ok Mario, perché no, sarebbe una buona idea, una buona idea giocare a calcio, vengo. Adesso sì, sono contento, vieni? Ok, perché no? Finalmente arrivati Ehi Asterix, perché, perché il campo da calcio è bianco? Non lo, non lo, non lo, non lo so il perché Mario, iramente non lo so, ah ok, Asterix, peggiore a calcio, ci vuole, ci vuole la palla, meglio, meglio, meglio che, che la trovo. Ecco ragazzi, ho trovato la palla, possiamo giocare al calcio, chi vuole stare in porta? Io, io, io in porta, io, io in attacco, pure io, io e te possiamo passare la palla, e Luigi fa il portiere, ok, cominciamo, Asterix, a te, eccomi, sono qui, Mario. Oh no, l'ho tirata piano, ho capito, e gol, evviva, ma, ma Luigi, ma Luigi, non la pari questa palla? Scusami, scusami Mario, però, alcuni tiri, non riesco a pararli, ho capito, perché, 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 perché sei in porta, se non riesci a pararli, evviva, ormai Mario ce la farò, te lo prometto. Ok, perché no, ok, perché no, a te, Asterix, eccomi, sono qui, Mario, oh no, l'ho colpita in testa, evviva, ha fatto gol, ma Luigi, non pari manco questa. Scusami Mario, fratello mio, non riesco a pararli alcuni tiri, oggi mi, mi gira un po' la testa, e perché, Luigi? Ma ti spegnerò il giardiero, se ti metti, perché, perché, perché mi, perché mi gira un po' la testa, Mario, mi dispiace, vabbè, comunque non fa niente. Scusami Mario, posso dire una cosa in privato? Ok, perché no, tu stai con me, Mario, viene, viene anche tu, Asterix, quando, quando stavo, quando stavo in porta, io, mi giravo la, la testa, non riesco a parare, e non sono un bravo portiere, mi dispiace tanto, Mario, non fa niente, Luigi, se non sei bravo a fare il portiere, d'ora in poi, sarai bravo portiere, uh, grazie Mario, sono contento, che mi ha detto quella cosa, adesso basta così, ci ritorniamo a casa tua, io devo tornare a casa mia, ciao Asterix, ciao Mario, So, che bello, sono a casa mia, sono contento che abbiamo, che abbiamo giocato a calcio, ora, posso restare a casa da solo, ok ragazzi, queste sono le avventure di Asterix e Oberix, episodio 8, il calcio, ci vediamo alla prossima puntata, ciao! Ciao!